Lei cantava nella metropolitana, con una voce che avrebbe potuto risuonare nelle sale da concerto. Il suono della sua chitarra si mescolava al costante brusio della folla, ognuno in eterno affanno per i propri affari. Era modestamente vestita, aveva una figura snella e i capelli scuri raccolti in una coda. Sembrava quasi dissolversi tra la gente. Solo di tanto in tanto, le banconote che cadevano nella custodia della sua chitarra confermavano che era ancora lì. Accanto a lei cadde un portafoglio. Ha interrotto la canzone per un attimo, volgendo lo sguardo verso l'uomo che stava per scomparire dietro le spalle degli altri. Imprecando tra sé, corse dietro a lui, tenendo il portafoglio davanti a sé. Signore! Al suo grido si voltarono alcuni uomini diversi, ma quello di cui aveva bisogno continuava a muoversi, chiaramente preso da una conversazione telefonica. Lo raggiunse e lo afferrò per la spalla. Cosa? Si fermò bruscamente vedendo il suo portafoglio e la chitarra nella mano di lei. Ecco cosa. Gli porse il ritrovato. L'ho lasciato cadere. Grazie mille. Non me ne ero accorto. All'improvviso lei si allontanò di nuovo, lasciando l'uomo a guardarla perplesso. La custodia non era più al suo posto. Come anche i soldi al suo interno. L'uomo si avvicinò a lei da dietro. Stavi cantando qui? Sì, sì, e mi hanno appena derubato. Gli rivolse uno sguardo smarrito. Forse non sono andati molto lontano. Sono andati. Sono altri truffatori. Qui devi stare attenta alle tue cose. Pensò che sembrasse un po' deluso. È colpa mia. Sei corso dietro a me e hai lasciato le tue cose. Posso fare qualcosa per rimediare? Iniziò ad aprire il portafoglio. No, è colpa mia. Dovrei stare più attenta alle mie cose. E per l'amor del cielo, nascondi il tuo portafoglio. Non accetterei i tuoi soldi, non te lo avrei restituito. Sembra che si sia arrabbiata. Non perdere altro. Tutto è il meglio. Si girò e si diresse verso l'uscita dalla metropolitana, stringendo la chitarra contro di sé. Lui la raggiunse dopo pochi secondi e le tenne il passo. Ascolta, mi dispiace solo che le cose siano andate così. Si fermò e lo guardò dall'alto in basso. Alto, apparentemente 25 anni, in un buon cappotto e una camicia che si intravedeva dal colletto, con occhi chiari e un interesse incomprensibile per il suo problema. Non prenderò più i tuoi soldi. Ma magari possiamo bere un caffè. Perché lo fai? La maggior parte delle persone avrebbe tenuto il portafoglio per sé. In una situazione complicata della vita, no? Stai cercando di insultarmi ora? Lei si aggrottò e si allontanò da lui un po'. No, è solo statistica. Sai, persone come te non invitano persone come me a bere un caffè. Stai cercando di offendere me adesso? Ripetè il suo tono. Lei sorrise, rendendola ancora più adorabile. No, è solo statistica. Allora, andiamo. Il sorriso fu reciproco. Andiamo, concordò la ragazza. A proposito, sono Lorenzo. Le porse la mano. Elena rispose stringendogli la mano e sorridendo leggermente in modo incerto. Lorenzo e Elena rimasero al caffè molto più a lungo del previsto. La cautela di Elena si trasformò rapidamente in rilassatezza e piacere nella conversazione. Diventò più dolce e accogliente. E la tensione scomparve dai suoi movimenti. A grande sorpresa, Lorenzo si rivelò molto più facile da comunicare di quanto lei avesse pensato. E non assomigliava affatto a quegli snob in giacca e cravatta di qualche giorno prima, davanti ai quali aveva portato i vassoi di champagne. Lorenzo non capiva nemmeno lui cosa gli fosse preso, ma ogni volta disattivava le chiamate e alla fine chiese alla sua assistente di spostare l'incontro pranzo al giorno successivo. Nel corso della conversazione, cercavano di evitare argomenti delicati. Lorenzo non chiedeva perché Elena cantasse nella Metropolitana e Elena non chiedeva cosa facesse lui nella vita. Erano solo nel momento, solo un ragazzo e una ragazza in uno dei caffè di questa grande città. Parlava di varie piccolezze, interessi e ricordi. E sembrava che entrambi fossero felici di quell'interazione. Quella sera, sdraiata sul suo divano scomodo, pensò che non avrebbe più rivisto quell'uomo. Viveva nella vita reale. Non nel mondo delle fantasie. In una vita in cui aveva due fratellini e una sorellina. Un appartamento con due camere da letto alla periferia della città. Una madre che non avevano visto da qualche anno. Debiti e due lavori. Doveva trovare un vestito per la festa scolastica di Alice perché le ragazze avevano già 15 anni e a quell'età era importante sentirsi belle. A Elena servevano soldi per portare il fratellino dal medico e finalmente riparare l'illuminazione nella camera di Alessandro e Roberto, poiché da tre settimane vivono con la luce di una vecchia lampada da tavolo. Questa mattina è uscita nel passaggio a suonare, perché la rilassa e le fa guadagnare qualche soldo extra. E si sono davvero divertiti, ma questa è la vita reale e non ha senso illudersi che due persone così diverse possano avere qualcosa in comune. Ma quella singola volta non fu l'ultima. Lorenzo le fece sapere già dopo alcuni giorni. E così si svilupparono queste strane relazioni in cui Elena si permetteva di essere semplicemente una ragazza di vent'anni con problemi indefiniti che suonava la chitarra. Non diceva niente a Lorenzo della sua vita, non parlava della responsabilità verso i fratelli e la sorella, del padre alcolizzato, e cercava di non pensare a cosa avrebbe atteso nel loro futuro. D'altra parte, Lorenzo si permetteva di essere se stesso, non seguendo l'opera del padre. Futuro proprietario di una clinica di chirurgia plastica, ma solo un ragazzo. E tutto andava bene. Fino a una sera, la vigilia di Natale. Elena gli scrisse. Non funzionerà. Non chiamarmi più. Ha chiamato subito dopo. Cosa è successo? Hai perso la capacità di leggere? Elena, il fatto che io stia solo perdendo tempo, significa che non sono davvero importante per te. Tu, hai bisogno di me. Ascolta, hai un futuro brillante. Incontri, affari, banchetti. Si fermò. E non riesco a immaginarmi in tutto ciò. Perché non vuoi? Perché non sono così? Allora dimmi chi sei. Vuoi davvero saperlo? Sì, ti manderò l'indirizzo. Viaggiava alla massima velocità consentita e dopo mezz'ora si trovava alla periferia della città, girovagando tra vecchi palazzi identici alla ricerca di quello giusto. In questa parte della città era stato solo una volta. Aveva circa 14 anni. Allora, come molti adolescenti, aveva deciso di dimostrare la sua indipendenza ed esplorare il mondo esterno. Ora tutto sembrava molto meno avvincente. L'asfalto rotto, spazzatura piccola vicino all'ingresso, biancheria stesa sui balconi, una tristezza deprimente. Uscì dall'auto cercando di gestire l'eccitazione. Aveva la sensazione che qualcosa che stava per accadere avrebbe influenzato tutto il suo futuro. Un po' goffamente, più per abitudine che altro, Elena gli sorrise. Ciao. Si sedette accanto a lei su una panchina umida, macchiandosi il cappotto. Ciao. Lei sospirò profondamente, incrociando le braccia. Vivo qui. Lui annui, cercando di incoraggiarla. Con due fratelli. Tra poco avranno 11 anni. E una sorella. Ha 15 anni. Mia madre non è stata in grado di far fronte alle responsabilità quando ero adolescente. Il volto di Elena si contorse di disprezzo. Tuo padre è stato più dannoso che utile. Lorenzo cercò di prenderla per mano, ma lei si ritrasse. Ma lei si ritrasse. Non posso abbandonare questi bambini. E non lo farò, capisci? Lorenzo non aveva mai visto nei suoi occhi tanta sincerità. Sono bravi. Sono la mia famiglia. Quindi no, non mi iscriverò all'università come mi hai detto e non verrò con te il prossimo mese in viaggio. Hai la tua vita. Ti stancherai di questa avventura per ricchi e troverai qualcuno adatto a te. Si morse il labbro e allontanò lo sguardo per nascondere la sua tristezza. Avventura per ricchi? Di cosa stai parlando? Sembra che lui si stesse davvero arrabbiando. Di come tutto sembra facile e romantico per te ora. Hai incontrato una ragazza povera con una chitarra. Passate del tempo piacevole insieme. Non hai a che fare con i problemi della sua vita. Ma ti affascina il fatto che lei sia diversa dalle altre ragazze nel tuo circolo. Parlava con durezza, cercando di allontanarlo. E poi torni nella tua bella casa e tra gli amici promettenti. E la mia prospettiva è di lavorare duramente per far sì che questi bambini abbiano qualcosa di buono. E per quanto io mi sforzi, non posso raggiungerti. Si girò, quindi non vide come il suo volto cambiò. La prese in braccio e la strinse a sé. Ragazza sciocca. Disse con un'affettuosità strana. Lasciami andare. Sbraitava, cercando di liberarsi. No, rispose Lorenzo senza esitazione. Dopo un po', si rilassò tra le sue braccia. Ecco, ora ascoltami attentamente. Capisco da dove arriva la tua percezione delle nostre relazioni. Ma lascia che ti spieghi come le vedo io. Ti ho dato me stesso, come hai detto, a un ragazzo d'affari con un cappotto estremamente costoso. Sorrideva. Non sono sicuro che in tutta questa città troveresti una ragazza che farebbe lo stesso. Date le tue condizioni. E questo ora non è un'offesa, non iniziare a tormentarti, disse lui, prevedendo un'offesa. Ammiro te. Hai una vita complicata, ma rimani una brava persona. Ti ho parlato dei miei problemi con mio padre e del sentimento di non appartenere. Hai sinceramente partecipato al mio dolore, anche se per te probabilmente non significava nulla. E sei l'unico con cui mi piace parlare per ore. E penso che nel tuo maglione sformato tu sia molto più bella delle ragazze in abiti eleganti. Questa emozionalità non gli apparteneva, ma ora era importante che lei capisse tutto correttamente. Mi sembrava che in questi quattro mesi non mi fossi comportato neanche una volta come il figlio di genitori benestanti. Scosse negativamente la testa. Allora perché hai deciso che puoi considerarmi così? Chiese lui con tenerezza nella voce. Perché per chiunque sia troppo. Ho tre bambini nell'appartamento e la vita nel complesso è una scemenza. Li conoscerai? Chiese lui, realizzando tutta la responsabilità. Sul suo volto si rifletteva una pura e completa gioia che non aveva avuto fin dalla sua infanzia. Un anno dopo, Elena imparò ad accettare l'aiuto di Lorenzo senza vergogna e a fidarsi di lui. E per Lorenzo, Elena rimase la migliore ragazza, quella che era bella persino in un maglione sformato, con cui si poteva parlare per ore. Due anni dopo, Alice fu ammessa all'università e i fratelli crescevano più velocemente di quanto lui avesse immaginato. Ora ognuno di loro aveva la propria vita. Lorenzo e Elena avevano una vita insieme. Nei momenti in cui si riunivano tutti di nuovo attorno al tavolo festivo, i più giovani raccontavano dei loro successi. Conoscevano i loro partner e un'atmosfera di gioia e soddisfazione regnava intorno al tavolo. Elena ricordava i tempi in cui era sola e aveva paura del futuro. Ora non aveva più paura. A proposito, nel suo bicchiere c'era acqua. Presto avrebbero dovuto educare il loro stesso bambino. A proposito, nel suo bicchiere c'era un'atmosfera di gioia e un'atmosfera di gioia e un'atmosfera di gioia.